L'operazione svuota infermeria è ampiamente partita anche in vista della sfida di domenica contro il Palermo che metterà i lupi di fronte ad una diretta concorrente. I siciliani, Braglia lo sa bene, vanno affrontati al meglio della forma e con tutte le frecce pronte per essere scoccate al momento giusto e in relazione all'andamento della gara. Il tecnico sa anche che per portare a casa i tre punti, magari offrendo anche una buona prestazione, bisognerà pianificare e per farlo da oggi tutti gli uomini dovranno essere a disposizione, a partire da Riccardo Maniero. Il calciatore domenica potrebbe tornare arruolabile e in questa settimana ha anche l'arduo compito di invertire una gerarchia che al momento sembra cambiata. Galliano insidia decisamente il posto, ma anche Plescia contro la squadra della sua città intende essere della contesa. Pare vicino anche il recupero di Beppe Carriero che è in via di guarigione e presto potrebbe riprendersi il posto al centrocampo. Più difficile vedere Ciancio che ha la schiena ancora dolorante, impossibile per D'Angelo. La sua caviglia è ancora malconcia, nel pomeriggio però se ne saprà di più. Le porte del Partenio saranno aperte ai giornalisti per cui si avrà maggiore contezza della situazione generale. La speranza è che la vittoria di domenica abbia caricato la squadra di fiducia e di consapevolezza, facendola davvero svoltare in un fondamentale bivio stagionale.